let's go bitches ci siamo mamma mia benvenuto oggi rendiamo veramente onore sai che il nostro nuovo motto è non è più il podcast finanziario più irriverente d'italia ma il podcast finanziario più arraffazzonato al mondo assolutamente sì in quanto totalmente impreparati e totalmente così come capita come capita capita abbiamo allora simone che è il ritratto della miseria oggi veramente io guardi non so più come fare adesso vi racconto adesso vi racconto perché per chi non lo sapesse ormai mi sto trasferendo sto facendo il trasloco c'è il mobile più vuoto della storia dietro quindi guarda io ho appena finito il trasloco quindi ti capisco perfettamente mi comprendi ieri sera mi si è rotta la tapparella sta solo giù ormai non si alza più poi mi si è rotta la macchina quindi devo cambiare io non ce la faccio più cazzo ma siamo siamo fratelli io appena ce la faccio e c'ho la macchina dal meccanico cioè perfetto guarda veramente io non so più come fare però siamo qua perché non non si molla anche la voce come sentite la sto cambiando sto andando in muta la voce di di mara mario di mara maionchi non lo so esatto esatto sono in muta comunque è bello così è bello così bravo dall'altra parte socio oggi stiamo toccando in maniera internazionale il nostro globo terracqueo leonardo de fazio si può dire un applauso mettimi qualcosa mettimi qualcosa mettimi qualcosa cosa mettiamo quello che vuoi no questo era triste già mi piace di più la board se l'hai comprata per gli effetti ma ancora non la so usare no più che altro perché ho messo degli effetti nuovi e adesso li devo cercare sto diventando pazzo quindi leonardo de fazio in arte cobra direttamente da dubai e anche il mitico unico irripetibile riccardo zanetti salutiamo un applauso sì sì oggi oggi parlerà poco oggi di poche parole riccardo ma oggi di poche parole ma lo salutiamo insomma vabbè poi ci racconterà anche un po la sua storia come è arrivato dove è arrivato insomma un po quello che sta combinando allora socio tu intanto non conosci leonardo ma ti dico già che è un'avventura tutta da scoprire perfetto perfetto sì 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 ha un passato molto particolare anche perché poi hai fatto totalmente una cosa diversa da quella con cui hai cominciato sì 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 random tutto random e quindi insomma adesso scaviamo un po nella vita insomma di leonardo nella vita di riccardo anche perché loro ormai sono inseparabili a dubai sono h24 insieme vabbè purtroppo oggi adesso li vediamo separati perché stanno traslocando stanno facendo altre cose stiamo soffrendo infatti è una sofferenza spieghiamo spiego solo velocemente anche a leonardo di cosa si occupa questo fantastico fantomatico podcast nelle interviste allora è totalmente arrafazzonato quindi si alterneranno domande per far sì che sicuramente la maggior parte ti conoscerà ma per chi ancora non ti conosce per farti scoprire un po e farti conoscere tipo io ad esempio beati loro conoscerti come si deve e poi in mezzo a queste domande interessanti avrai anche delle domande che non c'entreranno assolutamente nulla con la tua vita e saranno le più difficili però voglio anticipartelo perché saranno effettivamente più complesse a cui rispondere bene bene io direi che possiamo partire vuoi lanciare la sigla? assolutamente facciamo ascoltare la sigla quella alla fine non l'hai cambiata giusto? allora mi sembrava la persona adatta per mantenere ancora la vecchia sigla con quelli nuovi non avrò il coraggio ti lancio la sigla e dopo voglio che con estrema sincerità giudichi questa sigla di merda sigla bene la più lunga della storia ho creduto perché tra un po' sarà un mezz'oretta ancora va bene va bene pensi sia finita e invece no so cioè è studiata appositamente per creare imbarazzo per infastidire è fantastica perché parte che sembra un film porno anni 60 e poi basta and made totalmente da Marco Costanza quindi anche DJ ce l'abbiamo io mi sto immaginando i prossimi ospiti direttori di banca non possiamo chiamarli devi chiamarli chiamarli e devi imbarazzarli allora vabbè comunque giudizio Leo su questa sigla ci sta ci sta mi ha trasmesso molte vibes sono passato dal lievemente eccitato all'allegro sentiamo Riccardo cosa ne pensa mi sa che l'hai lasciato senza parole vero è una sigla che stupisce vedi una sigla che stupisce è vero è vero è vero bene allora partiamo vai vuoi cominciare te a scavare sì 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 se vuoi presentarti rapidamente due parole giusto così così poi partiamo tranquillamente con tutto Leo va bene va bene che vi devo dire sono Leonardo per gli amici cobra per i nemici anche perfetto soprattutto soprattutto mi occupo di DeFi quando tento di essere una persona seria un po' a tutto tondo quindi qualsiasi cosa dal risk management alle strategie al farming qualsiasi cosa è inutile che entriamo nei dettagli e lavoro con anche se non più tanto con vari exchange perché adesso preferisco avere focus un po' su altre cose con qualche fondo e diciamo seguo tutta la parte che è un po' meno tradizionale della finanza per clienti istituzionali in meno così per dirla proprio alla lontana benissimo ma perché cobra? allora questa è una storia divertentissima ecco partiamo subito con una storia divertentissima è nato in Russia questo soprannome per caso perché inizialmente perché avevo una macchina tipo dell'87 no? tu immagini in Siberia a meno 40 gradi che già le macchine normali non funzionano io avevo una macchina dell'87 e qui tutti mi pigliavano per il culo perché diciano che sembravo stallone nel film cobra e così inizialmente è andata così per cazzeggiare poi è successa una cosa divertentissima ovviamente c'avevo un amico che lavorava in un bar e tutte le volte lo passavo a trovare e questo diceva la gente attenti che quello è cobra famiglia mafiosa italiana tutte cazzate e finché a un certo punto la città era piccola in Siberia tutti hanno iniziato a crederci cioè io mi ritrovavo che la gente arrivava e mi offriva da bere e faceva con gli omaggi al cobra e niente iniziano tutti a chiamarmi cobra ma per ridere ma la gente ci credeva davvero cioè mi è successo una volta che non so se sapete come funziona la Russia ovviamente c'è diciamo il riscaldamento in tutte le case centralizzato tramite carbone cioè arriva già l'acqua calda a casa ovviamente un barbone un senzadetto è caduto in questo tubo dell'acqua calda enorme in alta pressione che c'era un buco evidentemente in inverno è morto ce l'hanno trovato squamato dilaniato e finalmente è arrivata la polizia a bussare a tutte le porte a casa sai quando chiedono l'avete visto lo conoscete sapete chi è c'avete un morto nella canalizzazione e al che il vicino mi viene a bussare dopo che arriva la polizia si mi fa oh io non ho detto niente tranquillo in che senso non ci credo non ci credo non ci credo bellissimo bellissimo e da lì cobra tra l'odore di pollo bollito e l'altro comunque hai fatto anche esperienze in Russia bene sì sono stato undici anni undici anni ah wow wow ecco cioè questo passaggio qua da Roma alla Siberia cioè come è successo infatti come capitano come capitano queste cose allora perché io prima ero un ballerino di danza classica prima di approcciarmi al mondo della DeFi quindi c'è Roberto Bolle c'hai che cazzo sai tu hai capito felicemente pensionato comunque ci si pensiona giovani e ho fatto tutta la mia carriera in Russia in sostanza ma te hanno chiamato dalla Russia come è successo allora è andata così intanto vedo che forse ce l'abbiamo fatta sì no è un po' che leggo un nome guest là sotto ma ho paura che non lo faccia entrare adesso lo scopriremo esatto e praticamente io vabbè mia madre è una ballerina e coreografa abbastanza famosa in Italia adesso non sto più in Italia e quindi io diciamo che da quando sono piccolo tutti i fratelli tutti i maschi tutti i ballerini perché ovviamente non è che c'hai molta scelta certo e sostanzialmente io però diciamo quando ho fatto già l'esame da missione per l'università e tutto mi era presa questa cosa parlando anche con lei parlando anche con i miei genitori di approfondire questa carriera anche dal punto di vista universitario comunque ci sono un sacco di carriere poi infatti poi ho fatto in Cina prima di venire a Dubai ho fatto il direttore artistico a teatro in Cina quindi volevo avere un po' di come si dice di educazione universitaria un po' legata all'ammelo della danza e ovviamente le migliori università per la danza stanno in Russia c'è proprio da fare a quanti anni questo? 18 anni 18 anni che bomba ho fatto l'esame e sostanzialmente dovevo fare uno stage dovevo stare lì una settimana e poi ovviamente ho scoperto perché è molto amata la Russia a parte l'arte e la danza e sono passati 11 anni sostanzialmente come darti torto alla fine penso che ci sarei cascato in egual modo quindi poi oltretutto il fascino del cobra cioè l'italiano quello che ma guarda che dieci anni fa no più di dieci anni fa ormai purtroppo perché inizia c'è una certa età ma veramente bastava essere italiani in giro per il mondo perché ce lascia passare ah sì proprio così non era una leggenda oggi e ora comunque più o meno però comunque io poi ho studiato non in Siberia in Siberia poi ci sono andata a lavorare ho studiato negli Urali in una cittadina che gli italiani secondo me manco sapevano cosa fosse l'università che ho fatto io prima di me in tutta la storia dell'università ci sono stati tre italiani in tutta la storia dell'università cioè io la sera quando uscivo dicevo dove sei italiano qua acchiappati tutti così ragazzi a non finire hai studiato l'inglese prima di andare in Russia o in Russia ti sei imparato l'inglese il russo il cinese cioè l'inglese lo sai l'inglese lo sapevo prima il russo l'ho imparato là perché tra l'altro questa è un'altra cosa interessante io ho mio fratello che adesso sta studiando là la stessa università e adesso lui va là ecco google translate telefono e roba c'è tutto cioè nessuno non è che c'è necessità cioè io se non andavo a comprare il pane cioè facevo fatica a comprare il pane quindi in tre mesi io me lo sono imparato il russo poi c'avevo un cazzo di blackberry che non so se vi ricordate i blackberry che c'hanno l'internet loro particolari in Russia non riuscivo a connettermi in nessun modo a internet cioè veramente sono stato due mesi fuori dal mondo però l'ho imparato in tre mesi cioè in tre mesi parlavo russo perfettamente è stato là fino a quanto tempo fa hai partecipato all'invasione ucraina o non guarda ci tenevo ci tenevo ci tenevo comunque si vede che non è un ragazzo avvezzo alla tecnologia lo capisco è arrivato è giusto così è tutto giusto ti comprendo alla grande oh mio dio buongiorno buongiorno oh com'è bello davvero sì ti vediamo in forma più che altro hai visto che sfigata ho apprezzato ho apprezzato il tuo ultimo intervento due minuti fa sì 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 ma poi anche la storia è veramente interessante io non pensavo avesse fatto insomma questo percorso Riccardo anche il suo parere sulla sigla è stato ma voi mi sentite perlomeno sì sì ti sentiamo quello sì vediamo che stai facendo pubblicità in diretta alla road e basta però sì io ho un cazzo di problema perché in questo programma che cazzo di programma stai utilizzando per registrare tra l'altro Zencastr cos'è una roba australiana matta no ma però so perché non ti fa so perché non ti fa scegliere lo so lo so perché siamo in registrazione aspetta allora facciamo facciamo finta che c'è il break del primo tempo e rientriamo per un po' abbiamo appena sentito la storia di Leo della Siberia e del suo soprannome Cobra che ci ha spaccato in due letteralmente e guarda ti devo dire ti devo dire vi devo dire ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è un po' di ciccio gamer non fa mai male allora devo togliere questi effetti allora ripartiamo 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 che ci siamo persi totalmente via ma da cosa siamo già ripartiti infatti non ci siamo mai ritrovati in realtà raga non ci siamo mai ritrovati allora Riccardo io so che prima eri un po' come si dice loquace quando uno parla tanto o parla poco è quando uno parla tanto ok è il contrario di loquace benvenuto anche a te la La Finance Podcast mi piace che tu abbia perso la nostra famosissima sigla beh ti lascio presentare per chi già ti conosce tanto sei famoso però insomma no vabbè allora io faccio il content creator influencer youtuber come volete chiamarlo e faccio faccio video su youtube banalmente il tema principale dei miei video è il denaro la finanza personale e that's it cioè capito socio così la vita è facile che cazzo ti complichi te che studi vai in banca vai in svizzera perché poi mi presento poi sono anche filosofo imprenditore brava imprenditore ma tutte tutte cazzate quelle lì tenta di cambiare il mondo ma tra l'altro siamo siamo alla soglia dei 400.000 su youtube oh superati ieri sera superati superati ma tanta roba applauso non puoi entrare entra mi piace molto mi piace mi piace non entra mi piace tantissimo questa dinamica cazzo mamma mia il primo acquisto che farò finito questo podcast è la bar con i sound effects si no ma è dentro è dentro il programma è dentro il programma qui abbiamo anche lo stream deck ma non lo sto usando ah ok sì sì quelle cose lì ce le ho anch'io le compri ma non le usi poi alla fine io invece non le compro aspetto che le compri Riccardo smette di usarle e me le vende nuove guarda da darti se vuoi se sei interessato in questo momento ho un lampadario stavo scottando di regalartelo per compleanno ti serve? va bene va bene allora vabbè Comra ci ha raccontato un po' la sua storia allora te la chiediamo brevemente anche a te nel senso come sei finito ad essere un plurimilionario che vive a Dubai? come ci si sente? come ci si sente? come ci si sente ad essere il più abbiente della stanza? ti senti superiore? di solito sono il meno abbiente in ogni stanza tendenzialmente che è figo quel punto di vista è molto figo spero che rimanga sempre così no io sto qual è la domanda reale? la domanda è la domanda è vabbè come hai cominciato si pubblicate video su YouTube ma perché? perché io mi sono trovato in Australia a fare la mia prima esperienza da solo tra l'altro io ero contentissimo ho cercato di spingerti in tutti i modi quando hai deciso di trasferirti o di fare questa esperienza sono ancora qua a Sydney sono ancora qua fighissimo la mia prima esperienza è stata proprio a Sydney ha finita la scuola a 19 anni dopo le superiori non sapevo bene cosa fare della mia vita nel senso che avevo mi interessavano un paio di percorsi di studio all'università stavo valutando di trovare un lavoro perché io ho fatto un istituto tecnico informatico quindi sono non sono perito informatico perché per quel per quel certificato servono un paio d'anni di corso da qualche parte però ho avuto a che fare con con l'informatica e non avevo benissima idea di cosa fare e sapevo che l'unica cosa che mi serviva per il futuro era sicuramente apprendere meglio l'inglese perché ero molto scarso e quindi ho deciso ho detto sai cosa voglio fare un'esperienza un po' diversa mi affascina andare fuori dall'Italia e vedere cosa c'è fuori dalla mia bolla io vengo da un paese che si chiama Albignasego di Padova bellissimo paese famosissimo paese che è quella zona residenziale dove della città dove le case iniziano a sfumare e diventano campi quindi metà della mia compagnia di di amici sono sullo sfondo scusate non ha capito questa chieretta vabbè ma è giusto così a noi piace a me piace così è tutto bellissimo è tutto bellissimo comunque è una seconda verolengo quindi albisignago di Albignasego Albignasego metà della compagnia dei miei amici sono contadini l'altra metà sono persone persone in carcere persone in carcere e quindi ho fatto questa esperienza in Australia dove ho iniziato a farmi le grandi domande e ho iniziato a a guadagnare un po' di soldi perché arrivo in Australia perché ho mandato una valanga di curriculum tra UK US e Australia proprio perché volevo andare in un posto dove si imparasse l'inglese e dove lo stipendio fosse fosse buono e quindi non ho mandato per esempio curriculum in Sri Lanka o in India e ho avuto la fortuna che un pazzo mi ha preso in simpatia mi ha risposto e mi ha detto ti ti do uno stage ho fatto questo stage ad Epson Sydney dopo lo stage sono piaciuto e mi hanno assunto per sei mesi e sai che non lo so c'è stato del favoritismo e insomma io durante questo periodo ho iniziato a guadagnare i miei primi soldini e sono sempre stato molto appassionato ai numeri alla matematica ai soldi e mio papà è molto tirchio e quindi mi ha insegnato il reale valore dei centesimi ah perfetto ok e e e quindi quando ho iniziato a guadagnare i miei primi soldi ho iniziato a chiedermi ok come funziona questa cosa cioè ok ho queste spese ma nel futuro cosa voglio fare realmente come faccio ad averne di più banalmente le prime domande che una persona si fa quando ha lo stipendio c'è chi pensa a spenderlo nel modo più velocemente possibile c'è invece chi pensa come me magari matto masochista a capire cosa c'è dietro al soldo capire cosa c'è dietro al denaro e anche perché io in quel periodo vivevo come sai in Australia gli affitti sono molto alti porca miseria e io vivevo in in un bellissimo bilocale da 70 metri quadrati in una bellissima torre al centro di Sydney qual era la differenza tra me e tutte le altre persone che vivevano in quella torre le persone che vivevano in quella torre di solito erano coppie o appartamenti simili al mio e benestanti io invece ero povero in carne e avevo 7 barra 9 coinquilini in un bilocale da 70 metri quadrati che potevano essere di qualsiasi paese e invece e invece in camera io dormivo su un materasso appoggiato per terra in camera avevo sul letto a castello un filippino e un brasiliano poi cioè li affittava mensilmente quindi cambiavano c'erano a giro sai che ti dirò adesso qua ho visto cose magiche lì ho visto solo argentini adesso e qua Sydney Sydney è solo argentina se vai Melbourne solo greci qua solo argentina dove ti giri ho avuto tipo 5 coinquilini tutti e 5 si chiamavano quan tutti e 5 no io io oltre a quella camera lì avevo per un periodo due cinesi con la mamma follia ah sì avevo visto il video che ne parlava quella è proprio follia cioè i cinesi questi due cinesini sono arrivati per studiare all'università di Sydney e sono arrivati con la mamma perché non sapevano letteralmente a vivere e c'era la mamma che gli insegnava a vivere follia pensa te è rimasta lì tre mesi ha insegnato a vivere ai bambini bambini erano praticamente i miei coetanei io avevo 19 anni loro ne avevano 17-18 è follia poi appena è andata via la mamma non avete idea del puttanaio che lasciavano in giro e degli odori che facevano quando cucinavano mamma mia quanto mi manca come siamo arrivati dall'ostello al video su youtube banalmente ho iniziato a vivere con le mie forze e energie ho iniziato a chiedermi queste domande ho iniziato a guardare un sacco di video sul denaro banalmente imprenditoria business online investimenti e tutti i temi relativi a questo mi sono un po' appassionato e nel mentre mi stavo appassionando vedevo che anche le cose che facevo erano utili mi stavano tornando utili e quindi ho detto sai cosa vedo che tutti questi video che guardo sono in inglese principalmente in italiano c'è in italiano non c'è nessuno che parla di questi temi in modo semplice perché all'epoca si parla 2017-2018 l'unica figura che parlava o si avvicinava a parlare del denaro era Montemagno banalmente in modo semplice e i competitor erano erano consulenti finanziari che ha una figura ha un 19enne 20enne ce ne fregava il cazzo di parlare giustamente la banca è l'emblema della ricchezza cioè secondo poco la banca sono un coglione è giusto ricordarlo è giusto ricordarlo intanto è giusto e quindi appena tornato dall'Australia ho iniziato a condividere i miei contenuti parlando di questi temi e hanno funzionato perché non avevo concorrenza all'epoca c'era veramente poco l'unico altro creator che aveva iniziato nel mio stesso periodo a parlare di questi temi era Marcello Ascani il resto è storia il resto è storia e poi pian piano sono cresciuto bella interessante quindi vabbè ad oggi alla fine quello che fai è sempre quello oppure è un po' più imprenditoriale devi un po' più gestire no adesso bene o male no adesso bene o male da quando mi cioè sì e no cioè adesso avendo un piccolo team perché alla fine siamo in quattro in questo momento sono passato a gestire le persone cioè ho preso parte del mio tempo e devo fare quello all'epoca essendo da solo cioè 2018 2019 facevo tutto io e il mio unico focus era scrivere registrare montare pubblicare video su youtube adesso che in questo momento escono ma sta partendo un razzo da qualche parte la lavatrice ok la mia cammina me la trovo in sala a volte non so voi ma se l'accendo di notte è finita vado a vedere com'è c'è una penthouse la lavatrice potete mettere al piano di sotto effettivamente penthouse ma poi pensavo facessi lavare i panni da qualcun altro non che se li lavasse lui vedi ma è rimasto umile il ragazzo è rimasto umile multimilionario ragazzi di che cazzo stiamo parlando il ragazzo è rimasto umile ma come è successo poi che vi siete beccati siete diventati Brian Clyde Ficarra e Picone quella storia è meglio non spiegarla posso raccontarla in maniera censurata ma anche edulcorata edulcorata facciamo così facciamo una cosa così io ti dico io mi dissocio io mi dissocio prima che inizi perfetto ti dico rapidamente la mia versione e poi tu se vuoi aggiungi qualcosa allora partiamo dal presupposto che a me Riccardo stava altamente sul cazzo cioè io mi guardavo che figata c'aveva la faccia di quello sai è questo come si dice cioè proprio la persona per me Riccardo era la persona poi mi sbagliavo ovviamente però era proprio la persona spocchiosa ovviamente ovviamente oh vengo a casa tua dopo cazzo no no poi non sei così però dai video io pensavo che fosse il classico youtuber spocchioso sai ma spocchioso oh dai video mi sembravi spocchioso mi sembravi supponente come faccio a sembrare spocchioso ormai lui ce l'aveva fatta ormai ce l'aveva fatta lo sai con la prima impressione no ma che poi a me c'è tutte le persone penso che Marco è così ma ancora non ce l'ha fatta esatto sono solo spocchioso e scemo però e poi una persona ci ha invitato a cena perché mi aveva detto guarda io in quel periodo lavoravo con Binance e ho detto guarda secondo me Riccardo potrebbe essere interessato a fare della roba con Binance infatti possiamo andare alla cena VIP o da là ok conoscilo magari gli interessa di fare pure a lui robe con Binance eccetera e niente poi si è andata a cena tra l'altro Riccardo era un po' depresso quel periodo se non ricordo male e quindi e l'ora allegrata e come finisce l'ora allegrata si finisce così la storia non sessualmente non sessualmente ok ok poi stavo qua a Dubai da solo abbiamo iniziato a vederci cose e l'altro ci siamo presi subito e siamo diventati amici è stato molto semplice ed è nato questo amore ma tra l'altro gli hai anche trovato la moglie al ragazzo qua sì quella è un'altra storia che vabbè quella è bellissima anche quella storia è tutto bellissimo come è successo? i dettagli di quella storia sono strepitosi c'è della gente che è quasi morta c'è della gente che è quasi morta no no quella fa morire da ridere perché beh vabbè il come ci siamo il tramite chi ci siamo conosciuti è meglio non saperlo ah ok ho realizzato ok e considera che me l'aveva presentato cioè il tipo che ci ha presentati mi ha presentato Leo come cioè io avevo quasi paura di Leo perché me l'ha dipinto come sta figura russa sta figura che ha vissuto con te della sua vita in Russia multimiliardario crito io ho detto che cazzo mi presento stasera devo stare attento che la mafia mi ammazza qualche tipo di mafia strana e poi si presenta sto tipo infatti posso fare body shaming io la prima volta che ho visto copro ho detto finalmente non sono il più basso mi sono sentito al settimo cielo io vado e si copro è compatto e si è poche sono quadrato quadrato un metro e sessanta per un metro e sessanta ok 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 il mio polmone se n'è andato comunque io direi se dici una binaria la facciamo giusto per smorzare sì anche perché questa sarà la puntata più incasinata di tutte con nessun filologico con gente che entra gente che esce lavatrici gente che spacchi bicchieri cani e cose del genere non si se vuoi fare una domanda siamo volentieri ok allora no spieghiamo che cos'è allora noi praticamente nel mezzo di questa dimmi stavi dicendo qualcosa ti interrompo un secondo vai l'abbiamo buttata in cacciara continuiamo a buttarla in cacciara o switchiamo ok perfetto mi piace che figura di merda assolutamente no non c'è nessun va benissimo perfetto ok e quindi noi in mezzo alla puntata facciamo le domande appunto agli ospiti su una scelta una diversa dall'altra e voi dovete scegliere di questa domanda che cosa fareste e quindi la domanda che vi faccio adesso non è facile non è semplicissima donne e bambini allora preferireste vivere in una scatola di cartone sapendo che questa scatola di cartone comunque è sporca ci potrebbero essere anche dei topi che vi girano intorno però continuate a fare il lavoro che vi piace oppure fare una vita da sogno in un location super paradisiaca però senza internet lo youtuber ma tipo per le strade di New York semplicissimo io ti dico a me fregherebbe proprio una minchia di niente location paradisiaca senza internet non ci penserei neanche un secondo se poi non ho problemi per sopravvivere probabilmente sì Simone sceglierebbe in un cartone senza internet ma scusa tanto 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 con i barboni tanto comunque anche senza internet posso trovare qualcosa che mi piace fare o devo per forza fare qualcosa che non mi piace fare sbucciare noci di cocco posso andare a pesca non puoi condividerlo con il mondo però rimani lì tu va benissimo la tua vita e basta vero secondo me Cobra ma tutta la vita senza internet così non c'è più nessuno che mi rompa il cazzo io invece sono l'unico pirla che sceglierebbe una cosa di cartone e mostrerei la mia vita da barbone ma scusa la tua felicità è così connessa al condividere le cose con le persone al lavoro si parla del lavoro no no ma scusa io posso lavorare comunque anche senza internet certo posso lavorare proprio di condivisione sì a me piace condividere io questa cosa vivi molto ruralmente cioè vivi di pesca di caccia posso anche condividere senza internet fino a prova contraria no? sì ma con le persone racconti storie le community si possono crescere anche senza internet pensa che figata se fai passaparola cent'anni fa come cazzo faceva? da Kuala Lampur tempo che arriva in Italia la notizia pensano che sia un drago capito ma sull'isola deserta ci sei te ti puoi portare la tua ragazza Wilson Wilson ah beh ma non abbiamo detto isola cioè non abbiamo detto isola deserta abbiamo detto location perfetta abbiamo detto paradisiaca all'inizio paradisiaca però non è che ci sia sai il supermercato non ci sono qualche persone caccia e pista un po' rurale e posso raggiungere altre persone o no? sì oltre le 50 quelli del posto ah solo quelli del posto? eh sì perché c'è la tua isoletta ok cioè non stai male è paradisiaca perché comunque tu c'è la tua casetta se vuoi anche il frigo ti posso concedere ok vabbè scusa soggiorno paradisiaco senza frigo cosa mangia? solo bacche e bevi questi miei 50 anni hai ragione questo inizia ad essere diverso dovrei rifletterci più a fondo è complesso probabilmente probabilmente se posso stare solo con 50 persone in un'isola e così è messaggio diversamente isola bellissima perfetta però se posso stare solo con 50 persone in un'isola preferisco abitare in una casa coi ratti e poter raggiungere chiunque ok ah eh vedi sì nella mia testa era quella l'idea ha senso ha senso allora in realtà hai già risposto scusami scusami ma perché sì 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 Leo sì sì io vado paradisiaco vado paradisiaco te te frega un cazzo tra delle 50 persone no no bravo sono d'accordo caccia e pesca basta che caccia e pesca esatto gli ricorda i tempi d'oro in Russia esatto cacciava cacciava orsi ammazzava orsi il mio primo stipendio in Russia erano 280 euro al mese e siccome non c'avevo i soldi però a casa me la pagavano praticamente andavo in teatro e mi rubavo la carta igienica almeno poi a casa l'ho fatto il mio periodo nella scatola di cartone direi ma c'è una fine mi assicurata che c'è una fine perché mi sono licenziato due anni fa e sto ancora cercando la luce in fondo al tunnel c'è? sì puoi sempre andare in qualche paese dove la vita costa molto poco ah beh tipo l'Australia tipo l'Australia esatto prima l'hai visto raga sai quanto costa l'affitto di questa casa? saranno 70 metri quadri 3000 euro al mese so ciò sti cazzi sti cazzi c'è senza senso mi ricordo io spendevo 400 dollari australiani a settimana che sono 1600 per un cazzo di letto 1000 euro al mese per un cazzo di letto sì e invece raga adesso vi switcho un attimo perché faccio questa domanda un po' a tutti quanti quelli che ci vengono a trovare perché tra me e Mark c'è un dibattito costante ah la so già la domanda perché letti il gatto perché c'è un gatto perché mi hai chiamato mio padre adesso sto lampeggiando ma perché socio se ci abbiamo un ascoltatore che soffre di epilessia lo mandiamo all'ospedale aspetta non so cosa è successo sto malissimo secondo me sono le tue onde cerebrali che fanno interferenza comunque chiaramente la domanda è ma il tuo lavoro ti fa scopare di più? no 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 però la devo aggiungere io rispondo comunque e dico sì ok 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 no allora adesso lo tolgo un attimo così dopo magari funziona comunque detto questo secondo Mark Mark mi fa una testa tanta perché lui si sveglia tipo alle 4 del mattino corre ma non più fa le pressioni per me invece è un'enorme stronzata e quindi io vi chiedo com'è la vostra giornata tipo? allora io comunque io comunque inizio ad avere qualche spiegazione del perché socio non siamo ancora diventati famosi forse forse c'è un leggero velo di incompetenza dietro a tutto questo a me piace così a me piace così cioè se questa incompetenza nascosta dietro nascosta dietro nascosta dietro ecco secondo voi è una stronzata o meno? cosa? scusami quindi adesso iniziamo? sì iniziamo ci siamo ci siamo il discorso è secondo Mark c'è questa fazione tra me e lui che è una cosa intelligente svegliarsi super presto ma tu non sai quanto me lo fa pesare questa cosa che io non riesco a svegliarmi alle 5 e lo trovo inutile qual è la vostra giornata tipo? vai Leo prego prego vai te che così ti prendo per il culo vai esatto io ho sempre preso per il culo tutti quelli che si svegliano presto soprattutto perché conoscevo uno youtuber di cui non faccio il nome che praticamente faceva tutti questi video non è italiano quindi non pensate male faceva tutti questi video motivazionali no? doccia fredda malzo alle 4 vado in palestra e poi quando sono stato due giorni a casa sua praticamente lui registrava tutto il video preparato presentato poi non faceva un cazzo in realtà cioè si preparava il video con le tapparelle chiuse perché vedete che erano le 4 del mattino e quindi lo piva molto per il culo e però ho sempre fatto una vita io in cui poi Riccardo ha vissuto con me lo sa cioè io assolutamente malsavo forze diciamo sì ma il problema è che si addormentava anche forze c'era tutto un forze faccio una vita faccio una vita un po' scombusturata adesso col fatto che la mattina devo accompagnare la signora al lavoro ho iniziato ad alzarmi alle 8 e andare a dormire presto devo dire che la qualità della mia vita ne ha risentito molto faccio un tempo a fare molte più cose ho tutta una sorta una sorta perché sono disordinato cronico di schedule e mi trovo molto meglio comunque alzarmi presto e andare a dormire presto ricordiamo che ricordiamo che le 8 e alzarsi presto sono due cose diverse per me le 8 è prestissimo per me andare a dormire e alzarmi alle 8 vuol dire che sono andato a dormire alle 2 cioè secondo me l'orario per me l'orario giustissimo mi sveglio comunque la sveglia ce l'ho alle 8 quindi cioè per me quello è l'orario perfetto riesco a fare tutto quanto io la vedo che dipende molto dipende molto dalle abitudini che hai e dal dalla vita che fai e dagli orari di cui hai bisogno cioè io c'è stato un periodo in cui la parte del giorno più produttiva era dopo la cena e quindi piuttosto andavo a dormire molto tardi 2 3 4 5 di mattina sempre sempre anche per me poi dipende cioè in questo in questo periodo non so magari anche col cambiamento di stagione magari col cambiamento di abitudini o cose o cose da fare io tendenzialmente mi sveglio anch'io per le 8 però vado a dormire più tardi cioè dipende anche uno come io ascolto cioè ho imparato nel tempo anch'io prima mi forzavo a svegliarmi molto presto molto presto intendo 6 e poi mi forzavo a quel tipo di abitudini ora che ascolto un po' di più il mio corpo se sono stanco piuttosto mi prendo 30 minuti e mi faccio un power pernappi come lo chiamerebbero guarda quello lo faccio anch'io proprio come i vecchi e devo dire che dopo pranzo è devastante poi dipende anche quando mangi perché adesso mi sono abituato anche ai ritmi della mia ragazza che i russi sono matti secondo me lei mangia quando ha fame quando ha fame mangia cioè il pranzo il pranzo succede che lo facciamo alle 4 e mezza del pomeriggio la cena alle 11 poi a volte la cena la facciamo alle 7 e diciamo che mi ha un po' scombussolato le abitudini però adesso ascolto molto di più il mio corpo e l'uniche cose fisse è che ogni giorno prima organizzo la giornata successiva quindi bene o male c'è quello a livello di routine adesso com'è la tua giornata ti metti lì ti scrivi il video te lo registri o ti viene più naturale o hai già talmente tante richieste che nemmeno c'hai da pensare a cosa registrare no adesso dipende molto è predeterminata dagli appuntamenti che ho esempio qui adesso a Dubai c'è una fiera che si chiama Golf Food che è la fiera di food and beverage più importante al mondo dove ci sono una svarangata di persone opportunità e quant'altro quindi questa settimana sono spesso lì e sono spesso impegnato per quello settimana prossima c'è un'altra cosa Ypsilon e quindi mi organizzo in base agli eventi e alle cose che succedono però tendenzialmente mi sveglio vado la mattina dato che ho il fuso orario con l'Italia e lavoro principalmente con persone in Europa e quindi la mattina quando qui sono le 9 in Europa sono le 6 perciò la mattina ne approfitto per allenarmi e quindi io vado a correre in bici o vado a correre o vado a nuotare e poi in base a quando mi sono svegliato faccio colazione o pranzo e dopodiché inizio a lavorare lavorare si intende o ci sono video da revisionare e da mandare avanti che mi hanno girato che mi hanno girato gli editor o scrivo dei video quindi il grosso il grosso di YouTube e content creation è quello scrivere video registrare video e dare feedback ma te lo scrivi tutto nel senso che tu ti metti proprio giù e dici ok voglio parlare di questa cosa qui mi scrivo tutto lo script che scene devo registrare o adesso ormai fai le cose più naturali no allora oggi dipende dal video il 50% sono scriptati completamente ho il teleprompter e li leggo cioè li recito sono una non l'ho ancora fatto ma è molto più efficiente vorrei farlo anch'io è molto più lungo perché ci metti più tempo a scriverlo ci metti più tempo a registrarlo però è più però è più è scriptato cioè quindi nel momento in cui poi le persone lo guardano è più sintetico non sei ripetitivo non sei prolisso ed è più efficace cioè fai più visualizzazione è un watch time più lungo però ovviamente è più lungo cioè ci metto quando al tempo ci mettevo tre ore per scrivere registrare editare adesso ci metto due giorni se va bene però anche la maggior parte li fa in giro adesso appunto dei video poi c'è un altro 50% che li faccio in giro e quelli lì c'è un canovaccio però non sono scriptati e poi ovviamente dipende dagli impegni cioè adesso sto portando avanti un progetto qui fisico su Dubai e sono molto impegnato su quello principalmente principalmente il pomeriggio poi dipende cioè molto a me piace non avere per forza una routine però il momento di allenamento che c'è sempre la mattina principalmente a meno che questa settimana c'è gol food e gol food è la mattina fino al primo pomeriggio quindi mi alleno la sera però il grosso della routine è fare in modo di trovare sempre ogni giorno un momento dove organizzo il giorno dopo e mi alleno sono le uniche due abitudini che ho mantenuto sempre spettacolo allora noi intanto salutiamo Simo tu te ne devi andare c'è una riunione c'è i tuoi lavori inutili da fare devo volare purtroppo io rimango ancora un po' qua con i nostri ospiti raga grazie mille vi lascio al signor Costanza che tanto siete in ottime mani mi ha fatto piacere sei utile come un sandalo però oggi sei stato più simpatico del solito sono simpatico ogni tanto sì oggi sì continuiamo la cacciara buttalo un effetto dai per salutare cosa ci abbiamo per Simone non lo so ma devo cercare l'effetto giusto cosa ci abbiamo la banca e l'emblema sembra anche fatto apposta per me però l'hai già messo il delfino mettimi il delfino addio ciao ciao a livello invece finanziario quanto quanto state dietro ai vostri investimenti quanto state dietro insomma sia a livello di finanza personale che anche proprio di mercati finanziari cioè più roba investimenti passivi so che prendo quei due o tre etf me ne dimentico o ci passi proprio vabbè leo penso ci passi le giornate ma guarda in realtà facendo trading adesso sì non dire cagate tu sei uno schifo cioè lui io se sono in macchina con lui lui sta facendo ricarica lui sta facendo ricarica sul cellulare che rischi la morte ogni volta cioè dai fai schifo cioè una veramente vergognati io diciamo che c'ho pure un po' un po' d'ossessione cioè devo continuamente seguire perché faccio tutta roba molto rischiosa però non sto mai staccato dal telefono io devo dire che adesso ma va a fa culo quindi te sei H24 che segui quelle cose lì ma c'hai anche roba nel lungo che boh te ne dimentichi sì ma c'ho un portafoglio che ma sono roba DeFi no 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 adesso guarda adesso è proprio l'unico periodo penso negli ultimi tre anni che c'ho pochissima roba di rendita passione DeFi sto tradando tantissimo con tutto il portafoglio che solitamente uso per le cose vabbè comunque tutte cose sempre private anonime fuori da sì c'ho solo guarda c'ho solo un portafoglio su Binance che sto usando tanto perché è l'unico che mi fa fare margine come piace a me però per il resto tutto su Dex ovviamente quello è il problema invece di Riccardo che invece c'ha c'ha tutto così alla luce del sole quello è un casino io sto io sto io invece a tutta la luce del sole sto spostando sempre di più passivo il grosso della finanza che io faccio attivamente è sono i nuovi progetti cioè a me piace molto sentire nuove idee e mettere quelle idee in business plan però quello non è finanza quello lì ma nel senso che entri in equity in alcune aziende in alcune società o sto entrando sempre di più non c'è ancora cioè adesso per ora ce n'è una che se vai a vedere l'excel del mio patrimonio che condivido senti Melman c'è il cane di John Wick carico carico è carico oggi quando arrivano quelle delle consegne è finita e se li mangio sto entrando in equity su diversi progetti e ad ora ne ho condiviso uno e gli altri invece sto facendo i business plan e mi piace un sacco mi piace veramente un sacco però comunque rappresenta una parte piccola del mio patrimonio cioè il grosso è etf dove ho un piano d'accumulo adesso sto vendendo tutte le stock proprio per passare tutto in etf a lungo termine poi ho un piano d'accumulo cripto che anche ne ho due in realtà uno in altcoin dove tra l'altro mi ha dato anche una manoleo a selezionare le cose che ha senso acquistare i progetti dove lui ci ha investito in ICO compra questi però fai un bel acquisto mentile ogni mese che devo scaricare nel frattempo lui in macchina vende hai comprato sì vedi esatto però c'è anche quello lì è una parte piccolissima sarà quel piano d'accumulo in altcoin sarà 3% del patrimonio neanche però sono molto esposto su ethereum e bitcoin cioè tendenzialmente dovrei arrivare al oltre il 20% del mio patrimonio se le cose se le cose vanno bene sotto il 90% non è rischioso il resto è 50 no un po' meno 50% e 45% etf e poi cos'altro rimane rimane un buon 35 circa che è in 20 30 35 che è in sto prendendo due appartamenti e resto equity il resto equity e altri investimenti equity si intende non stock cioè non stock sono inequity in aziende private aziende private quello mi quello mi cioè è iper rischioso anche quella tipologia di investimento però è affascinante divertente riempio il mio tempo e imparo un sacco di cose che a questa età mi stimola parecchio sì infatti quella sarebbe una cosa che mi piacerebbe un botto fare però giustamente serve capitale perché sennò è inutile cioè non diversi non per forza non per forza anche knowledge cioè sto entrando sì ok sto entrando adesso in un in un'azienda dove metto una parte di content creation e quindi mi pagano per quello una parte di equity dove metto io soldi e una parte di consulting dove quindi mi pagano quindi metto molti metto metto molti meno soldi però il resto è compensato dal mio tempo sì sì hai il tuo brand e tutto quanto ecco a livello di vabbè chiamiamola monetizzazione o lavoro nel senso te cobra ha detto che vabbè principalmente trading e consulenza giusto sì adesso penso 90% trading poi c'ho una piccola società con cui lavoro con la russia che però mi farà entrare tipo mi dissocio io non ci sono in questo là io non ci sono stato traduzione 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 quindi non niente di promettente che però ovviamente spiega cosa traduci allora prima faccio la piccola premessa che tra covid e guerra ovviamente il fatturato della mia società è sceso dell'85% perché era tutto import export quindi prima covid import export distrutto e poi guerra import export distrutto ma per lo più si tratta di fare aspetta non mi ha la parola in italiano traduzione e localizzazione dei contenuti per siti che vendono creme dimagranti creme per allungare il pene tutta sta roba qua è una cosa che ho iniziato a fare quando ancora ballavo per arrotolare sono cose che si fanno praticamente tu traduci tipo i libretti delle istruzioni di che li devi vendere in Russia no i siti al contrario i siti e il materiale per vendere in Europa io in questo momento starei bestemmiando se non fossimo in live no però è una cosa divertente che all'epoca mi piaceva tanto perché mi ha aiutato tanto per il discorso anche delle lingue mi divertivo un sacco poi ho un bel team che sono diventati tutti amici e alla fine adesso sta in pari entra pochissima roba di netto al mese però mi fa conto perché almeno quando vado in Russia c'è i rubi sul conto ok e basta e basta e ti invece Riccardo nel senso mai pensato di fare tipo formazione o robe del genere ho valutato però il misto formazione più Dubai è bello atomico è complicato cosa ti serve piaciuto fare formazione ma finanza personale alla larga cioè alla larga per un pubblico molto largo quindi arrivi fino ad impostare un piano d'accumulo cioè ti spiego come 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 fare come fare budgeting in modo corretto come come impostare un modo per cui tu inizi a tenere correttamente un tracking delle spese sensato senza diventare matto perché devi stare a scriverti centesimi e poi ti arrivo a spiegarti come come fare i primi investimenti quali sono gli asset che una persona può valutare così una prima infarinatura e poi ti arrivo a impostarti un asset allocation per crearti un piano d'accumulo che possa da uno zero a un intermedio via si che poi alla fine se che poi alla fine molto spesso fa molto meglio quell'intermedio piuttosto che l'intelito che sta lì a farsi 64 mila segmentali per investire nella small cap nell'azione malata però alla fine non c'è ho fatto un indice di questo di questo chiamalo corso chiamalo come vuoi però però sinceramente voglio provare a creare altre tipologie di rendita di rendita esatto c'è il ritorno che avresti alla fine magari se metti quell'energia in altro il discorso è che il ritorno è molto il business plan di un corso online è bellissimo perché ai pochissimi costi ho già la mia faccia che fa da marketing e quindi è rischio zero il discorso è che purtroppo poi c'è la parte di vendita quindi come lo vendi affinché comunque tu non ricada nel nel il nuovo fuffa guru e b hai comunque una parte di mal di testa di gestire le persone e gestire i contenuti quindi piuttosto faccio la stessa cosa collaboro con un brand e faccio un video su youtube e aiuto molte più persone che non possono neanche permettersi di acquistare il brand ti paga il video comunque poi ci guadagno meno se andiamo a fare i conti in tasca ci guadagnerai di più se facessi corsi però alla lunga va bene così per il momento poi magari un domani se voglio approfondire un 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 argomento che secondo me ha senso approfondire quando te ne vai da dubai così cioè di rotture di palle della gente no allora facciamo così dipende anche molto come lo vendi cioè dipende anche molto come lo vendi cioè che parole usi che prezzi usi che tipologie di lanci fai quindi allora facciamo così finché sono verolengo ci penso poi se mai mi dovessi trasforire evito Marco io non ci ho pensato perché in effetti mi scordo sempre perché so soldi che mi arrivano a fine anno di solito se mi arrivano perché molti non pagano però in effetti la maggior parte del fatturato vero cioè che non è che non sono come si dice trading e consulenze so sviluppo e auditing in effetti cioè quella parte non la calcolo non la calcolo mai perché mi arrivano i soldi ogni 3-6 mesi se mi arrivano perché molti spariscono anche senza pagare però diciamo che forse come è fatturato quella forse è la parte più grande proprio fisica tutti i contratti della DeFi e robe così tu li controlli e via sì 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 lo auditing lo sviluppo secondo me quella è la parte che paga di più poi il problema è che spesso e volentieri non pagano perché essendo progetti anonimi esatto mi è venuto in mente prima che parlavi di Guru Dubai con striscia com'è finita ho mandato la diffida ah la fine l'hai fatta ho mandato la diffida non li ho si dice correlati sì penso di sì ho mandato la diffida che è praticamente una avete fatto questo non è che non è che rimediate quello che avete fatto nel senso che ha non cancellate però cambiate il contenuto perché adesso è ancora carico se tu vai a vedere nelle pagine di striscia e B e B eh date una spiegazione cioè esatto però ovviamente non ti risponderanno mai è la cosa che si fa prima di partire con le procedure con altre procedure legali più pesanti tu gli mandi quello così dici ok noi abbiamo provato a contattarli non ci hanno risposto e allora procediamo con quello con con tutto il resto però non abbiamo voluto procedere perché a c'è un costo ma neanche tanto il costo perché alla fine ho fatto fare un preventivo e mi sarebbe costato procedere di avvocati perché poi alla fine sono spese di avvocati 7-8 mila euro quindi neanche chissà cosa spalmati in un anno soldi per carità però neanche chissà cosa il grosso poi sarebbe stato il mal di testa e quindi lo stress nervoso poi magari che tanto non avresti recuperato esatto magari si puntavano ancora di più esatto questi qui si pigliano male vogliono distruggerti mediaticamente e lì hai poca voce per quanto io raggiunga 400 mila persone metti falla larga mezzo milione di persone sì strisce è comunque è comunque un mal di testa che si può che si può evitare e comunque il danno sì comunque il danno è stato il danno è fatto ormai sì è stato fatto ed è fortunatamente relativo perché è un pubblico che comunque se poi mi viene a cercare vede chi sono e con due video approfondisce ma il pubblico di striscia e poi è mia mamma cioè il pubblico è mia mamma che mi ve è un pubblico che tra dieci anni magari manco c'è più il pubblico di striscia grazie non per tua mamma io ti voglio bene non per tua mamma però in generale l'età media è capace che il segreto muore con loro sì erano più i contro che i pro che scena che hanno fatto lì mamma mia cioè se fai un'indagine di mercato l'utente medio che ti esce fuori con un'indagine di mercato di striscia è lo stesso che ti esce fuori se fai un'indagine di mercato per vendere le cotolette quelle strisciolate io non ho detto niente allora prima di chiudere progetti futuri rimanere lì a Dubai entrambi trasferirvi che idea ci avete che idea vi siete fatti del futuro prego doc penso che almeno altri due tre anni starò qua primo perché la mia ragazza si trova molto bene a lavorare anche se pensavamo di no poi comunque sia a me Dubai non dispiace poi certo se Riccardo decide di andarsene prima magari mi viene un po' di depressione e me ne vado prima però sto anche sto anche pensando di comprare la casa dove sto adesso quindi vediamo 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 però penso che due anni sicuro sto qua io avevo valutato stavo valutando di tornare in Italia in modo serio ho fatto tutti ho fatto tutti i conti ho fatto ho fatto una sorta di pianificazione e ho cambiato idea esatto e in modo questo di tasse ok no ma anche proprio compro un altro appartamento li spendo no guarda che se alla fine si fa una buona pianificazione aumenti il carico fiscale però è un qualcosa che se fatto bene è sostenibile per carità passi da uno zero a un 40% di tasse però se tu vuoi stare in Italia e e tu sei contento con quello con quello no se tu vuoi stare in Italia sei contento con quello che hai perché cioè io per carità non sono milionario e neanche non ci vado neanche vicino però per vivere mi basta veramente poco e perciò con la pianificazione che avevo fatto io le cifre tornavano il grosso problema e mal di testa sono stati i documenti e la documentazione cioè io vado ad aggiungere per riuscire a fare questo passaggio un carico di lavoro di 10 ore a settimana per per niente cioè per poi cosa per gestire il fatto che vado a pagare le tasse legalmente e regolarmente perché è quello che si parla e quindi ho detto sai cosa per il momento posticipiamo questa decisione quindi per un anno sono ancora qui ed in realtà sto guardando altri paesi in Europa perché a me piace molto lo stile di vita europeo sì e poi c'è anche da considerare il fatto che mi piacerebbe tornare vicino anche ai miei genitori e alla mia famiglia e ai miei amici d'infanzia poi per carità c'è anche da dire che negli ultimi sei mesi poi è cambiato molto il discorso di ho trovato un giro di amicizie qui qui a Dubai che mi sta facendo cambiare idea anche da quel punto di vista e quindi sto un po' ho posticipato di un anno però allo stesso tempo mi sta iniziando a piacere di più questa città e allo stesso tempo mi ci sto abituando un po' di più e quindi magari cambia tutto e al posto di decidere di perseguire l'idea torno in Europa rimango qui anche perché alla fine si sta un po' occidentalizzando anche lì piano piano esatto rimane il grosso rimane il grosso problema che è una città fatta per le macchine non per le persone sì e io non sono un amante quella settimana che sono venuto non c'è niente in giro cioè non vedi persone passeggiare per la città secondo me è molto importante per entrambe poi non lo so magari dico una cazzata per te no però a livello di sport io qua non ho ancora trovato un posto dove per quello che faccio io mi posso allenare meglio che qua sinceramente no a livello di sport perché tu fai uno sport guardiamo giugizzo giusto perché tu parli di giugizzo cioè io uno dei motivi tra l'altro è lo sport in Italia gli sport che pratico io che sono principalmente padel tennis e calcio sono decisamente due sport su tre perché il padel non è uno sport chiamalo come vuoi per quegli sport è decisamente meglio l'Italia costa meno ci sono allenatori ma gli allenatori sono alla pari però costano meno e c'è più gente che li pratica però in particolare costano meno ti dirò che lo stile di vita per dire quello dell'Australia secondo me è uno dei più belli al mondo è che sei in culo al mondo a me è quello che pesa troppo anche Bali è fenomenale no io a Bali non ci vivrei mai ma secondo me c'è troppo caos quello dell'Australia a me pesa quello no in Australia è bellissimo dipende dove io e gli otto mesi a Sydney devastanti io ci vivrei tranquillamente a Sydney che sei in culo al mondo cioè se l'Australia fosse un'isoletta nell'Atlantico io andrei lì ho detto se dovessi scegliere una città per tutta la vita Sydney sarebbe perfetta perché comunque tutti si tengono iperinforma piena di opportunità qua c'è poi c'è una cultura di bilancio tra vita e lavoro che è fenomenale devastante devastante c'è veramente c'è benessere lo vedi che c'è benessere poi le persone iperbrave proprio gentili cioè salutavamo veramente sì sì amo 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 questa nazione però sì 10 ore di fuso orario guarda che non becchi non ce n'è il mezzo dire se vieni a Sydney io ho beccato più ragni a vero lingua che a Sydney perché comunque qua sei in città poi magari quello che trovi ti può uccidere però è raro no però tanta roba è peccato fuso orario il fuso orario è gli spostamenti cioè devo fare mezzo lavoro da qualche parte nel mondo e sono limitato lì fuso orario non mi preoccupa lo stato più vicino è la Nuova Zelanda che ha cosa tre ore e mezza di volo e poi non c'è altro devi andare in Indonesia che da Sydney sono cosa sette ore di volo minimo otto ore di volo infatti il pello di Dubai è proprio quello cioè Dubai con tre ore quattro ore è stato ovunque più o meno raggiunge un bel po' di posti ma io anche non pensavo che il fuso orario fosse un problema ho detto tanto con internet però lo senti cioè dieci ore il fatto che devi schedulare tutto programmare tutto non puoi far tante live però sai che in Indonesia per esempio a me col fatto che la mattina mi svegliavo e in Europa tutti dormivano la mattina riuscivo a fare tutte le cose che faccio qua la sera non è che mi dispiaceva tanto dipende poi tanto dal lavoro che hai tipo se sei in contatto col pubblico finché sei a più sei va bene però esatto cioè più tre è perfetto perché a mezzanotte io faccio le live delle nove e mi addormento all'una e mezza due quello è top però quando inizi ad essere a più sei in Indonesia io non ce la farei non c'è già è diverso cioè ti devi organizzare in modo diverso mi ricordo quando facevo le chiamate con la mia ex ragazza che io mi stavo cioè io stavo andando a lavorare alle sette e lei si stava addormentando vabbè come non c'è non ti scassa la bella tutto il giorno eh no poi finivo poi finivo il lavoro e lei si stava svegliando capito questa relazione di salsa funziona benissimo ci sentiamo una volta al giorno due volte al giorno tanta roba comunque però spazio sì 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 dai allora ci vediamo non so qualche evento prima o poi in Italia ricapiterà sicuramente qualcosa per ribeccarci non vedo l'ora ci distruggiamo di nuovo insieme tra l'altro rigorosamente bravo eh quello stavo proprio dicendo perché mi ricordo la prima volta che mi sono visto con Cobre era forse a Lugano ci siamo visti sì non mi ricordo sì mi sembra di sì 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 a Lugano sì e con Riccardo a Porto a Porto cazzo è vero c'era la partita Lazio-Porto a Porto che poi sono andato a Londra dove ho conosciuto la mia ragazza ah te da lì sei andato a Londra eh sì due anni fa due anni fa quando ho preso il taxi più costoso della mia vita porca trovi ne abbalza la pena però dai a Londra assolutamente sì perché c'era c'era stato un tifone tra l'Europa tra l'Europa continentale e e il Regno Unito e avevano ritardato tutti i voli infatti Lorenzo che era lì per la partita di Binance doveva venire con me però si è cagato addosso non ha preso il volo tra l'altro bellissimo la mattina mi sveglio mi scrive Riccardo siamo nell'aereo c'è Lorenzo che ha paura ma com'è la situazione là si può volare io apro la finestra e vedo un tetto che vola mi ricordo secondo me si sta stabilizzando secondo me si sta stabilizzando i tetti che volano e mi ricordo anche i video che sono arrivati poi io e Lore siamo entrati dentro l'aereo ma dentro nella pista e Loren si gira verso di me mi fa ma secondo te faccio ancora in tempo ad uscire io gli faccio veramente? oh mio dio sì sì io mi giro e gli faccio ma cioè se chiedi all'hostess penso di sì cioè non penso che possano farti volare contro la tua volontà però siamo in pista e lui mi fa no no ora chiedo ha chiesto l'hostess è sceso e sono rimasto il tipo che cazzo dimmelo prima così ti faccio un po' di compagnia e lui mi fa no no vai 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 per fortuna che ho deciso di andare poi perché poi lì c'era c'era sto pirla che mi stava aspettando che mi fa dai vieni a Londra che ci divertiamo ma sì mi ricordo i video dell'hotel con 11 ballerine e roba del genere poi ho speso poi ho speso una follia di taxi perché siamo arrivati tutti insieme perché tutti i voli erano ritardati allo stesso momento meno male e a Stansted era il delirio avevi 4 ore di coda per prendere un bus 4 ore di coda per prendere un taxi l'unico modo era Uber però Uber sai che domanda offerta e quindi c'era un sacco di domanda e i prezzi erano andati su alle stelle ho speso 250 pound da Stansted per arrivare a Londra non avevo non avevo voglia di stare lontano sono tipo due ore di macchina un'ora e mezza di macchina ma che 40 minuti di macchina 40 minuti un cazzo figata dottori io vi ringrazio immensamente è sempre un piacere un onore fare un po' di cacciare portare un po' di ignoranza finanziaria e dai non vedo l'ora di beccarci allora grazie mille onorato grazie a te buonanotte sì effettivamente ma sono ancora le otto e mezza ancora c'è ancora c'è tempo anche se è diventato buio in due minuti qua è una merda perché anche d'estate non è come in Italia che tipo viene il sole alle 5 e va via alle 11 qua comunque anche d'estate c'è poche ore di luce infatti mi gira un po' le palle però pazienza ce ne faremo una ragione in cambio il tempo è bellissimo 23 gradi continui noi minima 16 massima 26 per c'è stadio anche qua però d'estate patite sì no d'estate scappi d'estate cuoci dottori allora faccio ascoltare la sigla a Riccardo che non l'ha ancora ascoltata così poi finisci la sigla e ci dai il parere te la faccio sentire perché non puoi andartene senza averla sentita ti dico solo che l'ho creata io con un sacco di ripensamenti e pentimenti e voglio cambiarla ti dico solo che inizia che sembra un film porno anni 60 e poi cambia completamente mood ma ci sono anche i delfini in mezzo no ma te li metto anzi partiamo con i delfini ci sta senti che mix come mi richiama Spongebob è bellissima e poi riprende poi vedi poi così e poi ti accompagna verso la fine cioè questa è la sigla da podcast finanziario ho unito il è bellissimo come si chiama il muggito di una balena come si chiama il mugugnio come si chiama che cazzo fanno le balene fanno i sonni gridano urlano cosa fanno le balene non sono abbastanza acculturato per risponderti ho preso il delle balene è bellissimo a me piace una vita la ringrazio la mugga fa la balena fa no aspetta che google mi sta il canto delle balene canta quindi un canto bramito bramire il bramito delle balene il bramito delle balene minchia facciamo anche ma è bramito o bramito aspetta che controlli che gli accenti io ho problemi con gli accenti bramito bramito anche questa cosa bramire bramire ok uno è entrato ignorante in questo podcast e ne esce acculturato almeno almeno sa questa cosa ma si uno dice cosa hai imparato in quest'ultima oretta però il grosso problema è che non puoi affidarti delle cose che dice leonardo perciò alla fine non hai imparato comunque nulla cazzo ha cercato in russo ha avvertrato qualche informazione strana si si bramire come allungare il bramito delle balene grazie mille belli a presto a te ciao ciao